Dopo questa direttiva, se sarà approvata, commissario, ad Amsterdam si potrà andare nei coffee shop a comprare cannabis per farsi una canna. E i ragazzi di 18 anni potranno farsi legalmente ad Amsterdam una canna, un torcione, ma non una sigaretta al mentolo. Se questa le sembra una cosa che ha una sua logica, commissario, io sono curioso di capire quale sia. Se non sa dove si vende la canna, lo chiede i tanti assistenti, i deputati di sinistra che vogliono questa direttiva, che da Bruxelles partono ogni fine settimana per recarsi in pellegrinaggio ad Amsterdam.